Freelance Camp è smettere di lamentarsi e cominciare a cambiare. Una meravigliosa idea e soprattutto bellissime relazioni per essere sempre più free, ma sempre più in rete. E se oggi inventeremo cose nuove? Io devo parlare qui abbracciata Miriam, così si sente anche nel suo microfonino. Bene, benvenuti e benvenuti a questo meraviglioso Freelance Camp Veneto. Grazie tantissimo a Banca Etica che sostiene il Freelance Camp da anni, sostiene questo Freelance Camp, è sponsor di questo Freelance Camp, ci ospita in questa sala meravigliosa e soprattutto è una banca con cui vale la pena, dove sappiamo che cosa fa con i nostri soldi, quindi la ringraziamo soprattutto per questo. Sì, super. Io chiamerei, giusto per insomma almeno il saluto iniziale, tutto il team Freelance Camp Veneto. Venite perché ci siamo... Perché questo è anche il primo Freelance Camp locale come associazione Freelance Camp, quindi insomma abbiamo anche un po' l'idea e l'ambizione di fare da apripista per prossimi Freelance Camp locali, organizzati da voi, ma non spoilerò. Altro? E che dire... Nadia, Roberta, Fabiana, Nicole. Ci siamo? Il tema di questo Freelance Camp è valori, quindi oggi durante il programma esploreremo che cosa sono i valori da diversi punti di vista, insomma abbiamo dato così un brief come direbbero abbastanza ampio e vedrete che ci sono argomenti diversi, interessanti. Io direi che cominciamo? Cominciamo, cominciamo. Ok, grazie. Grazie.